ciao benvenuti in questo nuovissimo video questo è il canale cuccioli e co e oggi ritorniamo con un altro episodio di my talking ink no non mi interessa ha fame prima lo devo lavare perchè ogni volta quando fa i bisogni si sporca c'è sempre sonno devo vedere se stanno lo stesso animali si sta la foca artica vediamo i soldi allora questi sono gli animali che mi hanno lasciato i soldi nella spiaggia sempre animali rari vengono ed epici 995 monete e 10 diamanti a gufetta è carina quella ce l'ho tutti allora questi sono gli animali che mi hanno lasciato i soldi nelle cascate infatti gufetta primo posto questi qua sono gli oggetti con cui loro giocano 903 monete e 3 diamanti qui sul vulcano c'è tartaruga da spiaggia che poi tartaruga da spiaggia e come guscio c'ha le palme tipo la spiaggia non isolotto allora questi sono gli animali che mi hanno lasciato i soldi questi sono tutti rari quasi comunque questi ce li ho tutti aspè ah no allora 880 monete e 8 diamanti buono visto che di diamantini ho sempre abbastanza torniamo indietro e diamo la pozione a hank per il sonno adesso possiamo mettere cibo da tutte le parti allora qui voglio mettere le bacche poi vedremo che animali verranno comunque se volete posso anche se avete sto gioco no posso dirvi dei suggerimenti su come attirare certi animali tipo quelli rari e epici che magari a voi non vengono mai allora qui metto questi e qui metto il fungo allora ora vi faccio vedere dei suggerimenti che che forse ho sbloccato io non lo so allora qui siccome che questo è epico il coniglio divertente forse ho qualche suggerimento si ce li ho tutti allora il coniglio divertente come oggetto li piace questi i trampolini il triciclo il posto sono le cascate e il cibo sono le bacche quindi voi mettete questi questi cosi cioè questi oggetti sulle cascate e questo cibo così vi viene ok ok no aspettate ok ma va meglio allora e quelli erano i suggerimenti adesso però vi dirò cioè non su tutti gli animali perché sennò il video diventa troppo lungo per non annoiarvi vi dirò ad alcuni animali suggerimenti in modo che vengono di più quelli epici che magari non vengono mai allora per esempio per esempio questi qua non è che vengono assai cioè a me non è che vengono sempre poi non è che posso che passo molto tempo con questo gioco comunque l'unico suggerimento che ho fatto su questa rana lei che si chiama la rana di vetro come cibo le caramelle a forma di vermi però gli altri suggerimenti non li faccio anche perché per fare i suggerimenti i diamanti li vogliono assai adesso vediamo qualche altro animale tipo il principe io questi ce li ho tutti però non ho i suggerimenti però viene da tutte le da tutti i posti viene infatti qua lo trovate sulla spiaggia qui sulle cascate e per mi sa che nell'unico posto che non viene è il vulcano si non è venuto proprio nel vulcano solamente nelle cascate e e nella spiaggia si queste sono le si comunque l'unico suggerimento che conosco su questo animale che quando mettevo quando gli mettevo l'hamburger veniva veniva sempre veniva sempre e questi sono gli oggetti con cui è venuto tipo vedete no? tappeto eccetera adesso adesso un altro animale e poi basta è tipo la tigre dei denti a sciabola quella non viene proprio mai infatti a me c'è è venuta solo tre volte è venuta con i tamburi con l'oggetto quello la che lava le macchine e no bugia questi non sono i tamburi scusate i trampolini volevo dire questi sono i tamburi e comunque l'oggetto con cui viene è la corona il cibo però non lo so però so che viene oh scusate ok comunque so che viene nel vulcano ok e niente poi nel prossimo video magari vi dirò altri suggerimenti su come attirare gli animali ma è venuto questo bello questo eppure è uno degli animali che non viene cioè non è che viene sempre però io ce li ho tutti e niente comunque ci dedichiamo un po' a Hank giochiamo qualche minigioco così lo rendiamo felice no ho mancato quello pure quell'altro sicuramente anche ragazzo i pesciolini devo stare attento ai pesciolini Eppure così fa Che bello quello No Scusate il telefono ogni tanto non fa contatto Quindi non l'ho fatto in tempo Vabbè comunque 9 monete Punteggio Scusate 660 E questo è il mio record massimo Comunque il video termina qui Spero che vi sia piaciuto E se vi ho dato informazioni Più possibili su come attirare Alcuni animali Noi ci rivedremo per un altro episodio Sempre su questo gioco Ciao